Non si chiude la vicenda giudiziaria legata alla morte con la pratica del suicidio assistito della 46enne paternese Alessandra Giordano. La Procura di Catania ha presentato appello contro la sentenza della GUP Marina Rizza che lo scorso 10 novembre ha assolto perché il fatto non sussiste Emilio Coveri, presidente dell'associazione Exit Italia e unico imputato con l'accusa di istigazione al suicidio. Secondo la GUP Rizza dunque non ci sarebbe nessun legame tra la morte in una clinica svizzera di Alessandra Giordano deceduta nel marzo del 2019 e il presidente di Exit Italia. Non dello stesso avviso l'accusa tornata a puntare l'attenzione sul rapporto epistolare e telefonico tra Coveri e Alessandra Giordano. Il procuratore aggiunto Ignazio Fonso e il sostituto Angelo Brugaletta che stanno seguendo l'inchiesta hanno evidenziato come Coveri avrebbe intrattenuto ininterrottamente dal 2017 al 2019 con la donna Plurimi rapporti e conversazioni telefoniche, via SMS e posta elettronica e avrebbe indotto la donna che soffriva di forme depressive e della sindrome di Eagle ad iscriversi nel 2018 proprio all'associazione Exit. Condotte contestano il procuratore aggiunto Fonso e il sostituto Brugaletta accompagnate da sollecitazioni e argomentazioni in ordine alla legittimità anche etica della scelta suicidaria. In particolare si sostiene nel ricorso Coveri non si sarebbe limitato a fornire asetticamente e in maniera neutra informazioni sul suicidio ma andava ben oltre sconfinando in una condotta penalmente illecita rafforzando e incrementando il labile e assai in certo proposito suicidario in itinere ma non certo concreto e definitivo vincendo anzi coartando dicono ancora i PM le iniziali resistenze della donna. Lo avrebbe fatto, accusa la procura con consigli, suggerimenti, esortazioni e contestano i PM con una lenta e insistente opera di persuasione volta a superare tutte le resistenze e le titubanze opposte dalla 46enne. La signora ha sempre invece sostenuto Coveri, era una nostra associata, le abbiamo semplicemente fornito su sua richiesta informazioni che le servivano per prendere una decisione, una procedura del tutto normale.